L'abbiamo fatta Italia campione d'Europa dopo non mi ricordo ragazzi se una cinquantina d'anni va bene allora intanto auguri agli azzurri abbiamo festeggiato ieri una bella notizia e soprattutto una gran gara disputata quindi grandi grandi perché cuore e coraggio si vedeva ragazzi allora sono molto contento vi sono divertito ieri e penso anche voi Bene ciao a tutti oggi riprendiamo un po' il bandolo della matassa sui mercati e le cripto cerchiamo di capire che cosa sta facendo bitcoin ma soprattutto lo stato di salute generale del mercato e le criptovalute perché in sostanza da due settimane i mercati non si sono mossi al punto tale che la volatilità è crollata forse anche oltre quello che ci aspettavamo nel video dove vi spiegavo che la volatilità nei mesi di luglio agosto Sostanzialmente un po' più luglio che già da metà dell'agosto potrebbe iniziare a muoversi un po' di più crolla solitamente nei mercati questo è ovvio perché istituzionali vanno in vacanza ci sono tanti tante motivazioni ma andiamo a fare una cosa andiamo a ragionare su quello che è lo stato di salute generale del mercato voglio farvi vedere in particolar modo tre grafici Ne vedremo anche altri vedremo anche comunque il grafico di bitcoin di eth sull'analisi ciclica per capire più o meno dove siamo a livello temporale anche se a livello di prezzi non è cambiato niente il mercato però sta disegnando dei livelli di breakout che sono interessanti ad andare a vedere li vedremo insieme poi però vi mostro questi tre grafici che sono uno relativo alla market cap complessiva del mercato delle cripto perché è un indicatore più pulito in questo momento che andare a guardare sia bitcoin che eth in pratica è come se mischiamo eth e bitcoin con qualche altra grande criptovaluta perché in sostanza sono loro che fanno l'ottanta per cento di quell'indicatore di quel grafico quindi lo andiamo a vedere poi vi mostro un grafico di spread fa nasdaq 100 e bitcoin perché il grafico di spread è interessante da andare a vedere per capire anche quando un'eventuale fase di riprendimento l'intresa dei mercati delle cripto può partire alla grande come sempre ragazzi allora io vi chiedo anche i polliccioni per questi video grazie anche di cuore per chi di voi si è registrato sul mio canale instagram ragazzi che è questo qui anzi ve lo metto così in sopra impressione abbiamo passato i mille va bene ragazzi allora sicuramente è una fase di ancora un po' di mare di veramente sonolenza anche dei mercati però sono sicuro che su questo canale ci divertiremo veramente tantissimo quindi chi volesse può andare a registrarsi allora iniziamo con quello che è il grafico di bitcoin classico quello relativo alla nostra analisi ciclica del mercato allora questa continua fase di rumore che è abbastanza evidente anche perché se vi metto la linea magari togliendo anche le le medie così non disturbano vedete in maniera molto chiara che il mercato ragazzi non fa nulla cioè sta salendo scendendo salendo scendendo salendo scendendo ma in sostanza è fermo intorno al valore di 33.000 dollari e questo tipo di di logica ci sta soprattutto in un mercato che ha avuto una prima parte dell'anno veramente complicata veramente da boom boom e poi crollo quindi insomma abbastanza volatile quindi ci sta una cosa del genere mi aspettavo una riduzione di volatilità forse un po' consistente in questo momento per il mese di luglio potremmo ancora avere delle oscillazioni verso fine mese anche perché il mercato veramente in questa parte non ha fatto neanche il movimento minimo standard però su questo magari andremo a vedere più in là ragazzi soltanto ha toccato sensibilmente soltanto uno dei miei punti d'ingresso che vi ho fatto vedere nel video inizio mese quello dove andiamo a vedere quali sono i dip importanti che il mercato può fare come si può tradare il mercato del genere quindi soltanto un punto ragazzi anche neanche la seconda fascia ha toccato quindi anche lì veramente scarsa scarsa volatilità da un punto di vista di analisi ciclica a proposito ragazzi mi ero dimenticato di dirvi che la lezione gratuita per chi si iscrive al webinar relativa alla strategia da utilizzare per tradare i mercati in barra di congestione la facciamo domani martedì quindi vi lascio il link per registrarvi alla lista del webinar riceverete il link diretto con l'orario preciso che probabilmente già ve lo dico sarà nel primo pomeriggio quindi non nel tardo pomeriggio quindi tra le 3 e le 4 insomma sto ancora decidendo ragazzi per via di impegni personali vi registrate al link vi arriva la mail con il link per vedere il webinar è un webinar esclusivo perché sarà anche una lezione che entra nel mio corso di formazione il corso basic quindi non vi fate scappare questa diciamo questa news allora il link ve lo lascio in descrizione registratevi se volete assistere a questo webinar da un punto di vista di analisi ciclica qui abbiamo una struttura complicatissima perché non riusciamo a vedere quelli che sono le fasi dei cicli mensili in sostanza o una metà del ciclo mensili è stato chiuso il 22 e qui io ragazzi posso dire che secondo me è assolutamente così perché dalla 22 di giugno probabilmente il mercato ha fatto una chiusura importante che insomma in questo momento potrebbe anche essere la famosissima chiusura del ciclo annuale è prematuro perché non è passato neanche un mese quindi sono passati 20 giorni andare a ragionare su un annuale ci vogliono una sessantina di giorni diciamo ragazzi per andare a ragionare ma se da questo punto il 22 è iniziato un nuovo ciclo mensile è quasi e ha fatto diciamo quasi una sicuramente la sua a metà in questa zona a questo punto potremmo assistere a una seconda struttura che poi vada a chiudere il ciclo in questo modo potrebbe essere un ciclo mensile in barra di congestione barra ribassista quindi ancora leggermente laterale ribassista però magari non esagerare con quelle che sono le fasi di ribasso ma ricordate bene che qui ci sono alcuni dati che dobbiamo tenere a mente che sono veramente importantissimi ed è da qui è partito un nuovo mensile quasi sicuramente perché ormai è passato veramente tanto tempo in questa zona è stato fatto un massimo quindi il massimo è avvenuto nella prima parte del ciclo questo presuppone che probabilmente questo ciclo sarà tendenzialmente laterale ribassista l'unica alternativa a questa visione è che il mercato nell'arco di 1-2 giorni vada a superare con grande vigore tutta questa zona ma al momento non sembra fare così anzi sembra stia virando dopo l'inizio di questa fase ad andare ulteriormente a chiudere poi verso il 22 di luglio questa fase quindi a questo punto ragazzi tra una settimana 10 giorni circa il mercato potrebbe andare a chiudere questa struttura di ciclo mensile già da lì un po' di chiarezza sarà fatta probabilmente cercheremo di capire se il mercato manterrà questo minimo questo è un minimo molto rilevante quello a 32 per esempio e se non ce la fa ragazzi è molto probabile che il mercato vada a tentare di aggiornare i minimi che ha fatto il 22 di giugno quindi non dico che arriviamo a 28.000 però se dovesse venire meno questo tipo di supporto in questo momento a 32.000 dollari circa il mercato tenta o tenterà di andare in break di questa zona sicuramente tenterà di andare in break poi dei 30.000 diciamo di questa fase potrebbe però ancora una volta fermarsi proprio in linea di massimo intorno a questa fase anche perché potrebbe fare una chiusura al di sotto dei livelli precedenti perché vedete la chiusura è stata fatta in questo momento la chiusura minima intorno a 31.6 quindi il mercato potrebbe tranquillamente decidere di andare a fare una close al di sotto di questo livello e magari chiudere il mensile in versione di bassista però senza andare a intaccare quello che invece è stata lasciata cioè i minimi a 28.9 circa del 22 di giugno quindi potrebbe fare in sostanza una cosa del genere è anche vero che è molto rumore per nulla potremmo dire in questo momento però sicuramente fino a quando il mercato non va al di sopra di questo livello invece che sono 36.5 scordiamoci un'eventuale fase di ripesa perché è veramente impossibile assistere a un'accelerazione del mercato fino a quando non verrà breccato quel livello per quanto riguarda Bitcoin stessa cosa per quanto riguarda ETH che guardiamo brevemente perché ETH ha un ciclo molto più pulito rispetto a quello di Bitcoin quindi possiamo anche andare a inserire quella che è la struttura ciclica di ETH e andare a bere la in questo modo qui quindi andare a fare questa ciclicità che va dalla 26 barra 22 di giugno anche qui perché c'è stata una specie di doppio minimo qui 17 1717 e qui eravamo 1711 quindi tecnicamente siamo partiti da qui ok però ragazzi veramente parliamo di dollari quindi è ridicolo insomma fare queste analisi quindi intorno comunque a questa zona del sempre 22 23 luglio dovrebbe andare a chiudere anche la struttura di ETH ETH però è nella fase ciclica del mensile a metà vedete poi da qui potrebbe tentare di fare una cosa del genere se lo fa probabilmente Bitcoin si riprende un pochettino però anche qui è pericoloso perché in questo momento se non regge questo livello qui che poi ho allungato su ETH a 1.970 quindi se non regge almeno in close questo livello di 1.970 si rischia che anche la regina delle cripto vada a cercare di chiudere questo mensile con un doppio minimo o un minimo addirittura inferiore a questa fascia e non sarebbe una cosa buona quindi ci avviciniamo per quello che riguarda analisi ciclica nella fase della metà del ciclo mensile i giorni sono pochi già da domani il mercato se vuole tentare esempio ETH se vuole tentare di fare un nuovo massimo deve tentare di andare a rompere questo livello è il primo test che ha fatto la settimana scorsa è stato fallito quindi 2300 livello chiave se ci riesce allora ragazzi abbiamo una nuova fase delineata assolutamente innegabile ma ancora una volta vedete quanta difficoltà quindi se già da domani abbiamo un ciclo tendenzialmente a rialzo qualche giorno di rialzo che tenterà di breccare 2003 allora ok ok ci siamo ancora dentro altrimenti ragazzi si avvicina poi la scarsa del mensile ed è più probabile che il mercato giri quindi tutta la settimana successiva poi alla fase ribassista quindi sono proprio questi due giorni da domani in poi a dare la chiave addirittura di questa cosa vi ho detto anche i supporti importanti andiamo a vedere poi quelli che sono invece i nuovi grafici che vi avevo promesso all'inizio del video cioè quello relativo alla intanto totale capitalizzazione perché anche qui ci dà un segnale molto rilevante e qui guardiamo non la struttura dei cicli mensili ma la struttura dei cicli annuali quindi per cercare di capire da un punto di vista annuale dove siamo posizionati e poi vi faccio vedere anche quello che riguarda lo spread perché c'è un piccolo dato lo spread nasdaq 100 contro contro bitcoin perché c'è un piccolo dato che voglio farvi vedere allora ragazzi analisi dei maxi cicli di bitcoin dal minimo vedete del 10 settimana del 10 dicembre 2018 quindi la fase in cui ha chiuso il bear market precedente e da qui è iniziata tutta questa nuova fase che ha fatto un ciclo annuale chiuso a marzo dell'anno scorso e questo chiuso probabilmente in questa zona ma ancora è troppo presto come vi spiegavo per andare a delineare una chiusura certa diciamo così del ciclo annuale perché anche lo scorso anno qui sembrava avesse chiuso l'annuale poi è fatto una inversione con una lingua di buyer e insomma ha spiazzato tutti proprio causa pandemia in questa zona insomma sembrerebbe insomma che il mercato stia o attendendo un'ultima fase di crash oppure stia andando a tentare di costruire una nuova fase perché perché da qui dovremmo avere il famoso terzo ciclo il famoso double pump quindi il terzo ciclo del mercato cripto che in tempi memory questo è un grafico che io ho utilizzato per fare una previsione in una live un po' di tempo fa tra le altre cose domani sera ragazzi a martedì alle 21 e 30 siamo in live con i ragazzi di coin square e gli Avengers forse noi torniamo col tiziano Luca Filippo Zara Casta e Marco Cavicchioli quindi torniamo tutti insieme a salutarvi quindi in versione San Meredizio quindi collegatevi anche sul canale di coin square allora per quanto riguarda questa cosa qui ragazzi mancherebbe un ultimo ciclo annuale ed è questo un po' la scommessa che stiamo giocando da un po' di tempo qui questa fase qui mancherebbe quest'ultimo ciclo annuale per i mercati che potrebbe portare al famoso double pump cioè l'ultima parte il tentativo della market cap di salire sui nuovi massimi e poi andare in fase di bear market definitivo quello che poi potrebbe durare diciamo qualche annetto questa fase è la nostra scommessa ragazzi tutto qui questa fase qui se il mercato la fa allora ok ma come facciamo ad avere i nuovi indizi di una cosa del genere basta andare anche a guardare il singolo grafico da un punto di vista di market cap totale del mercato di delle cripto già qui abbiamo un livello stra importante che è questo livello di 1.7 tera di dollari ragazzi ok non riesco neanche a pronunciarli sono veramente tanti quindi 1600 miliardi di dollari allora da un punto di vista di salita in questa zona se dovesse rompere questa fase qui allora da qui poi un'inversione ciclica annuale sarebbe estremamente confermata ovviamente si tratta di fare 300 miliardi in più di capitalizzazione quindi sicuramente bitcoin e th dovranno metterci dell'oro ma andando anche a guardare alcuni livelli di prezzo più in basso ci accorgiamo che questa fase i 1500 confermati in chiusura della settimana ad esempio potrebbero essere estremamente rilevanti per indicare già che qualcosa si sta muovendo sotto il cofano di questo di questa ferraria ok quindi questi due livelli io li monitorerei se vogliamo cercare di capire quando una nuova fase di pump potrebbe iniziare se inizia o meno invece come già si può evidenziare è importantissimo questo livello di supporto i 1300 miliardi di dollari i 1300 da questo punto di vista sono stati in close sempre rispettati già dal minimo di febbraio e poi in tutta la fase della correzione quindi sono la parte bassa ora un leggerissimo break di questo livello non è che insomma presupporrebbe diciamo chissà cosa ragazzi ok però non doveva andare molto sotto ok se va a chiudermi a 1.3 1.28 non succede granché ok stiamo parlando di piccole variazioni però un break consistente di una cosa del genere potrebbe essere rischioso perché come vedete anche l'altra media che sostiene questo trend la media annuale della capitalizzazione del mercato cripto cioè la media a 52 settimane è molto lontana perché segna un trilione quindi un mille miliardi ok quindi è molto molto lontana allora in tempo in memory avevo fatto questo tipo di previsione tempo fa che il mercato in questa fascia temporale avrebbe potuto tentare il suo massimo storico della market cap del mercato cripto la fascia temporale va da ottobre del 2021 a marzo del 2022 quindi tecnicamente andrebbe a coincidere con questa attesa del famoso double bump ci sarà non ci sarà alziamo le mani ragazzi e tentiamo di trattare i segnali di breve perché è impossibile ragionare così se andiamo a vedere queste cose quindi ricordatevi 1.5 trillion e poi 1.7 trillion ultimo grafico che andiamo a vedere come vi avevo promesso lo spread con il Nasdaq che cosa succede? nei cicli che sono collegati tra Bitcoin e Nasdaq quando il mercato sostanzialmente quello classico quindi il mercato delle stocks accelera e comunque fa un trend abbastanza importante come sta facendo in questi anni veramente non si ferma più ragazzi una bancomat veramente il mercato hold perché questa stamperia costante continua ma va a finire quasi sempre nelle azioni nelle stocks perché non ci sono rendimenti importanti negli altri strumenti del mercato hold e quindi questa cosa impatta positivamente sui mercati visto che le obbligazioni sono veramente a rendimenti nulli spinge o meno questo tipo di immissione questo tipo di trend dei mercati classici SP500, Nasdaq 100 spingerà anche i mercati cripto storicamente è stato così andiamola a vedere però non è lineare cioè non è una cosa uno a uno sale uno sale l'altro non è così è praticamente come se ci fossero delle grandi fasi temporali in cui il mercato delle cripto accumula o staziona mentre il mercato hold galoppa e in quelle fasi in cui a un certo punto si passano un po' il testimone come se fosse una staffetta nel momento in cui il mercato hold un po' si ferma poi il mercato cripto recupera e fa ovviamente il sorpasso visto che sale molto più velocemente e sale anche molto di più allora per quanto riguarda questa fase vi faccio vedere gli ultimi due cicli dello spread Nasdaq 100 con Bitcoin che sono stati cicli sempre maxi cicli ragazzi quindi quelli di lunghissimo periodo 1477 giorni dal maxi ciclo del dicembre del 2003 al dicembre del 2017 quindi questi quattro anni di ciclo dei mercati in questo caso ragazzi quando vedete la fase di salita di questa struttura significa che il mercato del il Nasdaq quindi il mercato hold sale di più di Bitcoin quando invece siamo nella fase di discesa i mercati cripto sono più forti dei mercati hold ovviamente è abbastanza visibile che la forza dei mercati cripto è molto più importante di quella dei mercati hold anche perché le masse monetarie che si muovono sono diverse già infatti nella in questo secondo maxi ciclo di quattro anni che è iniziato del dicembre del 2017 quindi diciamo con il pump finale di Bitcoin quando la bolla del 2017 l'entità dei movimenti è radicalmente cambiata rispetto a questa fase dove ovviamente Bitcoin era decisamente più forte dei mercati hold qui è più forte ma non poi in maniera esagerata allora in questa struttura vediamo che il mercato sta facendo due fasi cicliche che le ha già chiuse e qui dovremmo essere nella famosa terza e ultima fase ciclica ed anche questo indicatore ci dà idea del famoso double pump quindi ancora una volta anche da questo indicatore riusciamo a ottenere la conferma di quello che stiamo aspettando poi ovviamente i mercati devono farlo ma c'è un'altra informazione che secondo me è veramente importante cioè il fatto che in queste strutture cicliche il mercato abbia sempre recuperato questa media qui questa è la media annuale di questa struttura quindi la media ha 52 settimane di spread tra Nasdaq 100 e Bitcoin questa media tecnicamente dovrebbe essere recuperata questo significa e sembrerebbe che ancora un po' di tempo ci vuole per assistere a una nuova fase di bull del mercato cripto perché Nasdaq deve salire sufficientemente per andare a recuperare questa media e Bitcoin dovrebbe essere deboluccio o comunque non muoversi è la stessa cosa per questo che questo è uno spread nel frattempo facendo passare qualche settimana questa media potrebbe scendere un pochetto e andare a essere toccata da questo prezzo non mi aspetto come in questo caso che ci sia un grande pump qui come vedete in questo momento questa è la candela della pandemia di marzo 2020 quindi anche qui questo pump è estremamente fake insomma ok ragazzi da qui in poi però questo touch è molto molto rilevante questo è il precedente mercato orso quindi tecnicamente non dovremmo essere in questa fase se siamo in questa fase allora cambia tutto quindi mi aspetto che il mercato possa andare a fare un touch di questa media lo spread Nasdaq 100 e poi una volta caricate le armi sui mercati hold poi magari potremmo assistere invece a un corposo rimbalzo dei mercati dell'eclitto sembrerebbe ancora una fase di attesa per un po' di tempo luglio sta andando via così vedremo cosa succede ad agosto altro mese chiave ma ragazzi siamo ancora sul pezzo voi cosa ne pensate siamo pronti a una nuova fase oppure no ancora sembra che i giochi siano da fare sembra che siano un po' discutenti va bene ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate come sempre nei commenti noi ci rivediamo nel prossimo video ciao a tutti